Ciao, sono Giada. Ho 18 anni e vengo da Udine. Sono venuta qui per fare la rinoplastica perché mi crea problemi da quando sono piccola e vorrei sistemare questo problema e sentirmi più a mio agio con me stessa e con gli altri. Ho conoscuto la clinica grazie a delle ragazze che seguo su YouTube. Quando sono entrata nella clinica mi sono sentita subito a mio agio e mi hanno fatto accomodare per parlare con il chirurgo, mi ha fatto vedere più o meno come sarei venuta e abbiamo fissato la data dell'intervento. Il ragionario è bellissimo, senza ematomi, senza dolori. Non vedo l'ora di vedere il risultato e speriamo bene. Andiamo giù insieme. Non vedo l'ora di vedere il risultato. Non vedo l'ora di vedere. Ciao, sono passati quattro mesi dall'intervento e sono davvero felice del risultato. Sono tornata subito a lavorare perché non ho avuto dolori né niente. Anche i miei amici e i miei familiari sono stati contenti del risultato. Hanno fatto fatica a vedermi all'inizio, però sono davvero contenti. Mi sono trovata benissimo. Devo ringraziare l'autore Pallaoro e ringrazio anche l'equipe che mi ha seguito mentre sono stata lì. Mi dicono tutti che sto molto bene e quindi sono felice anch'io del risultato dell'intervento. Grazie. Grazie.